Salve. Dali i soldi. Per favore. Che cosa abbiamo qui? Uno straniero. Americano. Americano? Monica, hai un fidanzato americano. Congratulazioni. Non ti avevo detto di non venire? Americano, hai una sorella? Sì. La prossima volta la porto con me. Ecco qua. Non piaccio al tuo fidanzato. Non è il mio fidanzato. Non è il tuo fidanzato, ma mi ha portato 10.000 euro. 10? No, 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 no. Tu hai detto 5. 5? Monica è così. Prova a pagare la metà anche per riavere la figlia. Santi, non so cosa succede qui, ma io ero d'accordo per 5. Non ne pago 10. No, tu no. 10 era il prezzo per lei. Tu non sei lei. Per te sono 25. Cosa? Dov'è mia figlia? Ma stiamo scherzando. Mi vuolta rincazzare ancora di più. Ma lo vedi che succede? Non potevi restare in macchina? Sono contento di non essere te.